Ciao a tutti e bentornati qui Shesanna in questo video che non è una decisione bensì una necessità perché come potete vedere la mia cesta dei prodotti finiti sta letteralmente straripando io la tengo sotto la mia postazione make up e nel portarla fin qui ho anche disseminato dei pezzi per strada ho raccolto tutto, è tutto qui sul mio tavolo, adesso andrò a svuotarla e analizzeremo insieme tutti i prodotti hair care, skin care e body care mentre il prossimo video più corto ma più succoso sarà tutto dedicato ai prodotti make up a me piace girare questo video quindi se piacciono anche a voi non mancate di supportarlo perché vi parlo di prodotti che conosco benissimo perché li ho terminati fino all'ultima goccia detto questo come sempre bando alle ciance e cominciamo partiamo dagli shampi ma prima di tutto se vi chiedete che cosa indosso a livello di make up beh dovete seguire il mio mini calendario dell'avvento negli shorts e nei reels su instagram ogni giorno c'è una mini recensione e questi sono tutti i prodotti che troverete recensiti lì no spoiler partiamo dagli shampi e il primo shampoo è uno shampoo di The Body Shop ve ne ho già parlato nei miei video finiti è il ginger for dry flaky scalp anti dendro quindi è uno shampoo anti forfora anti forfora ma che in realtà funziona molto molto bene anche come regolatore del sebo in eccesso io ho dei capelli davvero molto difficili perché sono tendenzialmente grassi sulla cute molto sottili e secchi sulle punte quindi devo sempre utilizzare due prodotti diversi un pochino più intensi a livello della cute altrimenti i capelli mi si sporcano troppo in fretta molto idratanti a livello dei capelli quindi delle lunghezze ma non troppo pesanti perché i miei capelli sono sottili altrimenti diventano piatti e anche loro si sporcano velocemente quindi devo proprio gestirli in due zone separate fino ad ora lo shampoo migliore per me per regolare la produzione di sebo era lui e non vi dico fino ad ora perché ne ho trovato uno migliore ma perché farò sempre più fatica a recuperarlo perché The Body Shop non sta andando benissimo ha chiuso tanti negozi fisici ad esempio in Francia li ha chiusi tutti e quindi mi sto preparando a cercare un'alternativa sto testando il nuovo di Sephora che nel frattempo ho ritrovato ve ne ho parlato nel mio video All Black Friday che vi lascio qui e la versione di Freshly ma non ho ancora un sostituto perché non li ho testati abbastanza sto ancora utilizzando lui perché ho dei backup in Svizzera The Body Shop è ancora aperto quindi spero di riuscire a trovarlo ancora ha questa profumazione di ginger non troppo intensa non fa il miracolo ma mi aiuta da questo punto di vista e quindi mi dispiacerebbe non ritrovarlo più ho terminato anche una mini size del brand Briogeo del Be Gentle Be Kind Matcha Plus Apple Replenishing Superfood Shampoo uno shampoo che quindi deve andare a rendere i capelli più pieni è un shampoo idratante che su di me ha performato molto molto bene avevo acquistato questa mini size in un duo con il balsamo che sto ancora sfruttando li utilizzo quando viaggio mi è piaciuto molto ma io non giustifico il prezzo di Briogeo a me non era piaciuta la maschera quella rossa per nulla non era abbastanza districante questo shampoo invece su di me è molto districante e va ad idratare senza appesantire ma costa troppo ci sono degli shampoo che per me fanno la stessa cosa costando decisamente meno quindi non è un prodotto che riacquisterei maschere voi lo sapete io ho pianto il fatto che la mia maschera preferita in assoluto ovvero la Fito Elexir Masque Nutrition Intense di Fito sia stata discontinuata la vedete ancora perché ho trovato degli ultimi pezzi su alcuni siti qua e là ed ho acquistato dei backup a me questa maschera piaceva perché mi districava i capelli ma soprattutto appena applicata io sentivo i miei capelli più thick idratati più pieni davvero era un piacere applicarla e quando le avrò finite tutte quelle che ho da parte mi mancherà tantissimo quindi anche qui quindi anche qui andavo alla ricerca di un sostituto ho testato la maschera di Kiko Nourish and Protect Air Mask in collaborazione con Rossano Ferretti che io in realtà non conosco una maschera non abbastanza nutriente non abbastanza idratante per me potevo utilizzarla come seconda maschera io di solito utilizzo sempre una maschera molto nutriente una volta a settimana lei è una maschera un po' meno nutriente ma bella idratante come secondo utilizzo lei però non mi ha fatta impazzire mi piace molto di più quella di Alama della quale vi ho parlato in altri video finiti che devo ancora terminare e ho ancora in uso perché è un barattolone davvero gigante quindi anche questo è un prodotto che non riacquisterei ma in realtà una maschera a capelli che mi piace l'ho trovata purtroppo è molto costosa è di Gisù è il Honey Infused Hair Mask io lei l'ho testata perché mi è stato regalato un mini set di Gisù con un ordine da Sephora e vi avevo detto anche oh no che noia sono i prodotti capelli avrei voluto quelli labbra come il famosissimo lipoil l'ho portata in viaggio voi adesso la vedete piena perché l'ho riempita con la versione grande ma lei l'ho già terminata una volta semplicemente ho tenuto il mini pack per portarlo in viaggio è una maschera che come un po' tutti i prodotti del brand profuma ma ha una profumazione delicata c'è forse un finale dolce ma non mi fa pensare direttamente al miele è idratante, è nutriente, è districante non so se la amo quanto lei ma è il prodotto più simile che fino ad ora abbia trovato come vi dicevo lei l'ho terminata ho acquistato il full size mi ci sto trovando molto molto bene l'avevo acquistato con un bello sconto peccato che come lo era quella di fito anche questa sia una maschera davvero davvero costosa quindi se avete delle alternative benvenga vi aspetto giù nei commenti ultima sezione dei capelli dedicata agli shampoo secchi il mio adorato shampoo di alama che vedete in tutti i miei prodotti finiti che io amo perché lo amo perché va effettivamente a togliere quell'effetto un pochino unto che io ho già dal secondo giorno dopo che ho lavato i capelli ma ha un'ottima tenuta cioè mi toglie quell'effetto unto a volte anche per il giorno successivo quindi una volta applicato a volte mi copre due giorni è ottimo può fare un po' di patina bianca ma è normale che la facciano gli shampoo secchi ma non lo fa eccessivamente quindi eventualmente passando con l'asciugamano si toglie tutto e non rimango con i capelli bianchi che sembrano ancora più sporchi come mi è successo con altre formule ma c'è un contendente che purtroppo però vi cito solo perché non riuscirete ad acquistarlo perché io l'ho scoperto in Svizzera era andata a Zurigo la primavera scorsa mi ero dimenticata lo shampoo secco ho acquistato una mini taglia alla copp di questo shampoo che si chiama Well Hair che si trova nelle copp svizzera e mi sono trovata benissimo perché ha comunque questo effetto pulizia sul capello ma non lascia minimamente in alcun modo quel residuo bianco per nulla se ne può applicare un quintale ma non c'è quella patina bianca che in realtà serve ad asciugare l'alternativa homemade a tutti questi prodotti è utilizzare semplicemente del borotalco che però poi è più difficile da rimuovere ma lo riesce a pulire senza utilizzare questo tipo di polverine me ne sono innamorata ha anche un prezzo accessibile per la Svizzera perché mi pare che costi meno di 4 franchi ma lo riacquisto solo quando torno lì se c'è qualcuno che mi segue dalla Svizzera italiana beh provatelo c'è qualcuno che mi segue dalla Svizzera italiana? ne sarei particolarmente orgogliosa fatevi sentire giù nei commenti un bocciato balea trocca in shampoo moonlight flowers l'avevo acquistato al volo perché era una mini size per un viaggio non è che non sia performante ma ha una profumazione di fiori intensissima mi ricorda proprio i put purri e mi fa stare male cioè quando ho mal di testa io lui non riesco assolutamente ad utilizzarlo un giorno l'ha utilizzato il marito senza avvisarmi io sono entrata in bagno con l'emicrania l'ho maledetto quindi non lo riacquisterei non tanto per le performance che ho trovato abbastanza buone ma proprio per la profumazione troppo troppo intensa body care e partiamo dai bagnoschiuma lo immaginavate se mi state seguendo ultimamente perché vi ho confessato di essere in fissa con i doccia schiuma di Rituals che sono proprio dei doccia schiuma perché voi li applicate e sembrano un semplice gel ma quando li massaggiate si gonfiano e diventano una schiuma che ricorda un pochino la schiuma da barba ed è un feeling piacevolissimo è una coccola e in più i profumi di solito sono molto molto buoni e mi profumano il bagno quindi dopo la doccia mi rimane il bagno profumato alcuni devo dosarli ad esempio io adoro la profumazione Hammam che mi riporta proprio in una spa ma se ho mal di testa rischia di essere troppo eccessiva mi trovo molto bene con la mia nuova sessione che è Ritual of Mer che è una profumazione agrumata con un sottofondo legnoso che però non è troppo invasivo che è diventata un po' la mia droga ho acquistato anche la muscorpo il dodorante lo spray i capelli il dodorante per la casa insomma ho fatto una strage in questa linea quando ho un'emicrania tanto tanto forte loro comunque li doso perché le profumazioni sono belle presenti i miei bagnoschiuma da mal di testa sono proprio un po' come i profumi le profumazioni agrumate questo è un bagnoschiuma che mi è piaciuto tantissimo di un brand che ha una formula naturale ed è Avril il gel douche vi avevo già parlato di quello all'albicocca questo è quello allo zest de citron ovvero alla buccia di limone che in realtà ha anche una punta di zenzero è una profumazione fresca e piacevolissima e lui è sicuramente un bagnoschiuma che mi vedo riacquistare quando avrò terminato qualcuna delle mie scorte perché quando trovo un bagnoschiuma che mi piace tendo ad accumularne due o tre e quindi poi ho giù in garage un bello stock da terminare stessa cosa vale per uno shower gel di The Body Shop la cui profumazione era Yuzu era una limited edition quindi non mi delungo ma ancora una volta una profumazione fresca e agrumata a me piacevano tantissimo i bagnoschiuma di Yves Rocher finché Yves Rocher non ha riformulato tutta la loro linea di bagnoschiuma a me piacevano proprio con il pack vecchio se ritrovo qualche foto ve la metto qui avevo proprio delle profumazioni preferite adesso con le nuove faccio un po' più fatica l'anno scorso c'era questa nella collezione natalizia infusion de peace infusione di spezie buona ma tanto tanto speziata quasi pungente e quindi ci ho messo mesi e mesi a terminarla perché non avevo sempre voglia di utilizzare una profumazione di questo tipo torniamo a Rituals Rituals of Mare vi ho detto tutto quello che ho acquistato ma non vi ho detto che ho acquistato anche il detergente per le mani questa in realtà è la ricarica perché io utilizzo un porta detergente per le mani che è in ceramica quindi non me ne facevo nulla del bellissimo pack di Rituals ho preferito questa ricarica con meno plastica si aggiunge il prodotto all'interno si aggiunge dell'acqua si scicchera e si forma il sapone perfettamente identico a quello che avete acquistando il pack già pronto con il pack Rituals la mia profumazione Mare mi piace tanto mi piace utilizzarlo sulle mani perché lì anche se ho mal di testa poi è un pochino più lontano diciamo dal mio naso e tutti quelli che vengono a casa mia e si lavano le mani molto spesso mi hanno fatto i complimenti mi hanno chiesto di che cosa si trattasse nel mio bagno ho lui nel bagno degli ospiti ho la profumazione a mam passiamo ai deodoranti ma ho dimenticato uno shampoo ed è un peccato perché questo è uno shampoo che mi è piaciuto è la Gelée Demelant Purifiant di Christophe Robben che fa parte della stessa linea famosissima dello scrub purificante al sale marino questo è un prodotto che mi è piaciuto perché è effettivamente un gel trasparente Demelant quindi va a sciogliere i nodi nei nostri capelli abbastanza purificante non ha grandi proprietà sui miei capelli cioè non va a nutrirli o nemmeno a disseccarli d'altro canto ma quando io lo applico mi districa tutti i nodi sui capelli senza appesantirli in alcun modo quindi è per me un modo di applicare un balsamo senza andare ad appesantire i capelli e poi posso andare con una maschera per nutrirli e quindi da questo punto di vista lo approvo mi è piaciuto ve lo consiglio ed io soprattutto trovando le sconto a gennaio si trovano sempre i pack natalizi con i prodotti Cristoforo Ben scontati ed è così che l'ho testato e si arriva a sconti del 40-50% su Look Fantastic certo se volete delle proprietà particolari non le ha ma lui non vi appesantisce i capelli di districa e li rende facilmente pettinabili senza appesantirle quindi da questo punto di vista promosso siamo arrivati ai prodotti per il corpo e abbiamo due creme in realtà la prima è un gel un gel all'aloe a me d'estate piace utilizzare i gel all'aloe perché sono lenitivi vado al mare prendo il sole cerco di non scottarmi perché ultimamente sono bravissima nel ricordarmi la protezione solare ma comunque c'è la pella caldata tante volte la sera si è dimenticata quella zona che si è un po' arrossata ed io amo questo gel di Apis aloe vera 99% io l'ho acquistato su Nutino e ve l'ho consigliato l'anno scorso è finito proprio tra i miei prodotti finiti io odio quando la telecamera non mette a fuoco telecamera ciao il prodotto è qui ed io vorrei tantissimo che tu lo mettessi a fuoco ci faresti davvero un grandissimo piacere finalmente il pack è molto comodo c'è questo pump che poi si riferma non l'ho riacquistato perché questi prodotti hanno un po' comunque breve 8 mesi non lo utilizzerei in inverno quindi lo riacquisterò in primavera con l'arrivo dell'estate ma se cercate un ottimo gel all'aloe che non sia troppo appiccicoso ve lo consiglio assolutamente SPF eterea ve ne avevo parlato nel mio video tutto dedicato agli SPF corpo viso ve lo lascio qui nelle schede perché l'SPF va applicato tutto l'anno profumazione tropicale bella intensa ma piacevole sicuramente stiva forse con l'emicrania non l'utilizzerei ma con l'emicrania non andrei nemmeno in spiaggia perché mi dà fastidio il sole ma non mi ha fatto innamorare pa ho tre mesi decisamente pochi ma in realtà mi sono accorta che l'ho terminato davvero molto in fretta troppo 150 ml mi è durato meno di una settimana di mare ne dovevo riapplicare troppo troppo spesso e questo è comunque un SPF costoso ho trovato delle formule che performano altrettanto bene su di me che costano meno e mi durano decisamente di più questa è la ragione per la quale non lo riacquisterei deodoranti dav talco e voi mi direte ma ci parli sempre di deodoranti ecosostenibili dav talco in realtà appunto sono tanti anni che utilizzo deodoranti sostenibili con dei pecc un pochino più attenti all'ambiente e quindi lui era rimasto in fondo un sacchetto sotto il mio lavandino in uno dei cassettoni ed era lì da un sacco di tempo non aveva senso mi sono decisa a terminarlo effettivamente io non riacquisto più questo tipo di deodoranti a meno che non mi piacciono come profumo ad esempio ho acquistato quello del Rituals of Mer di Rituals ma non lo utilizzo come deodorante quotidiano ma come profumo una volta ogni tanto e quindi ne utilizzo molto meno adesso sono passata di deodoranti più attenti all'ambiente voi lo sapete mi trovo molto molto bene con quelli di Wild qui vedete due terminati due ricariche completamente terminate mi segno anche sul retro come mi sono trovata con la fragranza questi sono due ricariche di Pink Grapefruit and Lime e il mio commento è buono fresco e agrumato come piace a me peccato che fosse una limited edition altrimenti ne avrei acquistato un camion perché dopo di lui ho utilizzato una profumazione che non mi ricordo credo di averla regalata a mia sorella che su di me non era performante forse Lemon Sorbet era un limone molto dolce quindi onestamente ho detto oddio su di me non funzionano più i deodoranti di Wild e invece no era solo quella profumazione che su di me non era performante quindi se magari vi è capitata la stessa cosa magari cambiate profumazione perché a me è capitato solo con quella profumazione adesso sono tornata ad un'altra profumazione che è quella senza profumo ve ne parlerò nella prossima recensione perché la sto ancora testando e sono tornata a trovarmi benissimo vi avevo detto che in questi video ci sarebbero state delle sorprese per voi da qui a Natale sono i miei regali di Natale nascosti in mezzo ai video solo per chi mi segue veramente ed eccola qui cos'è? quest'estate il brand mi ha inviato il loro deodorante con un pack che io possedevo già ma nella versione vecchia questo qui lilla e delle profumazioni alcune le ho amate ed utilizzate Santorini era un po' troppo intensa per me e l'ho tenuta da parte per voi in modo da potervi regalare il pack e una ricarica il brand poi mi ha inviato in occasione del Black Friday quella bella bianca con le stelle blu che sfrutterò lei ci teneva a tenerla da parte per voi per darvi l'occasione di testare questo prodotto che tanto mi piace quindi se volevate testare i deodoranti wild e non avevate ancora avuto l'occasione mi raccomando voglio un commento con l'emoji non ci avevo pensato o della vasca da bagno o della bollicina di sapone che ci ricorda sicuramente il pulito l'unica critica che ho avuto da voi su questi deodoranti riguarda il fatto che possono lasciare delle strisciate bianche sui vestiti per me non è un contro nel senso che ci sono abituata io prima di utilizzare i deodoranti di wild il deodorante a cui mi affidavo era questo della borotalco qui ne vedete uno tra i finiti perché appunto avevo acquistato dei backup è quasi terminato ma è terminato e quindi mi sono detta ok ma termina lì perché tanto oramai li hai acquistati ed anche con lui c'era da avere la stessa accortezza se lo applicate non mettetevi le maglie come mi succede sempre strascicandole sulle ascelle bisogna avere un minimo di attenzione un minimo di accortezza ma pensandoci si riesce tranquillamente ad evitarle e trovo che le eventuali mini strisciate che mi lasciano nei deodoranti wild sono decisamente molto più semplici da togliere da quelle che mi lasciava il deodorante borotalco e molto spesso dovevo proprio cambiarmi la maglia perché non riuscivo neanche con l'acqua e il sapone a toglierlo spero di avervi fatti felici con questo piccolo regalino detto questo passiamo a tutta quella che è la skin care riordino tutto perché qui davanti a me ho un mare di prodotti partiamo dalla doppia detersione e quest'anno ho fatto delle ottime ottime scoperte in questo campo e quindi anche i tanti prodotti iconici che voi di solito vedete nei miei prodotti finiti come il mio cleansing oil alla calendula non ci sono perché ho testato tanti altri prodotti validi ve li ho messi in ordine di amore ed infatti il primo è un po' un bocciato era finito nel mio video flop credo dell'anno scorso ed è il The Calm Balm di Yepda o Yepoda perché in realtà io non so bene come si pronuncia questo brand perché non mi ha convinta questo balsamo struccante perché è molto molto denso molto molto corposo molto molto unto è quello che un po' vi ho detto anche nella sua recensione quindi anche quando vado a sciacquarlo con l'acqua mi rimane proprio una patina grassa sul viso si strucca ma non bene come altre formule e un pochino irrita i miei occhi sensibili sono sicura che ci siano dei prodotti di Yepoda molto validi mi piace molto ad esempio lo schiumogeno che è anche leggermente sfogliante quindi mi sta durando tanto perché avendo la pelle sensibile non è un prodotto che utilizzo quotidianamente ma lui non mi ha proprio fatta battere il cuore tanto che io lo utilizzavo sul lavandino per togliermi gli swatch di makeup io so che è un prodotto amatissimo quindi non tiratemi i pomodori ma trovo che ci siano formule più sottili che si sciacquano molto molto meglio a contatto con l'acqua come le formule coreane prodotto successivo è un prodotto low cost ed è il beauty expert cleansing balm di Balea costa 4 euro ed è bello poter avere un balsamo struccante accessibile nei negozi a un prezzo super accessibile e performante non è la formula più sensoriale che abbia mai visto ve l'avevo recensito su instagram perché l'applicazione è bello bello thick è bello bello denso quindi la prima volta che l'ho applicato ho detto oh mio dio non si struccherà non si toglierà mai con l'acqua e in realtà nonostante sia molto denso quasi pastoso l'applicazione a contatto con l'acqua si scioglie senza nessun problema non continuo in profumazione non brucia i miei occhi sensibili e quindi per me è assolutamente approvato in emergenza sono in viaggio mi dimentico il cleansing balm lo finisco lui andrei sicuramente ad acquistarlo senza problemi come vi dicevo non è l'esperienza sottile del balsamo coreano all'applicazione perché quando si scioglie effettivamente lui non lascia residui sul viso e poi non mi ha dato fastidio sui miei occhi sensibili che per me che davvero ho dei problemi da questo punto di vista fa la differenza quindi non la formula più sensoriale ma comunque per me è promosso ottimo balsamo struccante ed entriamo nel mondo coreano il Cicaluronic Cleansing Balm di Mison che è arricchito con acido ialuronico e centella asiatica quindi un ingrediente che si dovrebbe comportare bene sulle pelli sensibili come la mia ottimo cleansing balm aveva anche una spatolina qui da appoggiare nel coperchio e adoravo il fatto che si clippasse al coperchio ed infatti non l'ho persa fino a quando non l'ho finito perché tante spatoline che si appoggiano sopra si perdono qui c'è proprio un preformato dove si attacca la spatolina per non perderla in giro non bruciava i miei occhi sensibili profumazione delicatissima e la scioglievolezza delle formule coreane che a contatto con l'acqua si sciogliono proprio in un latte molto molto sensoriale non ha battuto il mio adorato cleansing balm di Vanilla & Co per il costo perché lui costa di più ma è comunque una formula che vi consiglierei così come mi sono trovata benissimo con lo struccante di Astra Skin anche lui lo trovate recensito in una mini recensione degli shorts terminato del tutto è un balm che si scioglie in un olio sul viso e si sciocca molto molto bene senza lasciare residui ottimo potere struccante tra i due forse fare vincere quello coreano per la profumazione perché questa è una profumazione leggermente floreale e quindi preferisco la profumazione del prodotto coreano ma è ancora una volta un ottimo struccante con un ottimo rapporto qualità prezzo e ovviamente a prenderlo mi sono unta tutte le mani anche voi tagliate i prodotti come me per terminarli fino all'ultima goccia detergente schiumogeno serave schiuma detergente io utilizzo la versione per pelli da normali a grasse in realtà lo utilizziamo in due e ci dura praticamente un anno è l'unico schiumogeno che vedrete in questo video perché ci sono ben 236 ml 15 euro ottimo rapporto quantità qualità prezzo io mi ci trovo benissimo e su di me fa quello che deve fare uno schiumogeno cioè pulire bene senza essere troppo aggressivo perché io ho sì la pelle sensibile sì reattiva sì soffro di rossori ma ho anche la pelle mista tante volte i cleanser idratanti su di me sono troppo spessi troppo nutrienti troppo grassi quindi ho bisogno di un prodotto che faccia una bella pulizia senza essere troppo aggressivo e è lui mi ci trovo benissimo non sarà la formula più sensoriale del mondo infatti ogni tanto lo alterna prodotti un pochino più sensoriali ma è un ottimo prodotto se avete la pelle secca c'è una versione per voi e passiamo ai tonici in realtà il primo non è un tonico ma un'acqua termale un riage io per un periodo dopo il lavaggio del viso utilizzavo l'acqua termale per togliere prima del tonico quella sensazione di pelle che tira non l'utilizzo più perché l'ho sostituito con un altro prodotto che vedremo tra pochissimo non ho testato tante versioni questa è quella di un riage che mi è piaciuta meno delle altre mi è piaciuta meno ad esempio di quella di aven perché era un po' salata quindi quando lo spruzzavo sul viso poi sulle labbra sentivo questa sensazione di salato che non mi ha fatta devo dire impazzire quindi non la riacquisterei ma come vi dicevo per questa funzione non utilizzo più le acque termali ma il mio adorato mist toner di Pion Kang Yul che è un tonico in spray veramente ottimo non mi brucia assolutamente gli occhi e subito va a dare quella sensazione di leggera idratazione toglie quella sensazione di pelle che tira poi rimanendo sottilissimo e freschissimo lui ha come base mi pare la gotturnia cordata quindi non c'è acqua come base liquida per questo toner ma già un prodotto attivo non è la prima volta che ve ne parlo lo amo non posso stare senza e l'ho già riacquistato se sono al mattino di corsa l'utilizzo come unico tonico alla sera vado con lui e poi mi piace aggiungere al di sopra un tonico un pochino più corposo e ne ho trovato uno che amo proprio nella stessa gamma Pion Kang Yul Essence Toner questa è la versione mini size che mi sono portata in viaggio è un tonico leggermente più corposo leggermente più viscoso non è denso ma non è nemmeno liquido come potrebbe esserlo l'acqua o uno spray questo aiuta anche ad applicarlo con le mani così non devo utilizzare cotton pad riutilizzabili o non riutilizzabili è bello idratante si assorbe senza troppi problemi insomma super promosso ed infatti ho riacquistato la full size credo di avervela fatto vedere nel mio haul black friday prossimo prodotto skin care uno scrub enzyme scrub io glodi wishful io non so nemmeno se wishful esista ancora onestamente è uno scrub enzimatico il suo lavoro lo fa bene da qui a dire wow lo riacquisterei forse no sto rivolgendomi verso degli acidi più delicati più attenti alle pelli come la mia e sensibili però anche la pelle come la mia soprattutto perché mista ha bisogno di esfoliazione forse non ho ancora trovato il prodotto perfetto per me da questo punto di vista ma sto facendo dei test quindi ci aggiorneremo ho trovato anche qualcosa di interessante nel mio calendario dell'avvento che apro tutti i giorni su instagram e quindi vi terrò aggiornati sull'esfoliazione ma stiamo adesso e si è diviso io ho una pelle mista quindi ogni tanto ho delle imperfezioni e quando ho tante imperfezioni ho proprio dei brufoletti sotto pelle che mi si creano tutti attorno alla bocca è qui in basso sul mento meglio il doppio mento ultimamente e quando voglio asciugare tutto è sempre solo lui il prodotto che utilizzo lo vedete in tutti i miei video finiti il vino pure serum salicylic anti imperfezioni di codali ovvero un siero anti imperfezioni con acido salicylico due giorni di applicazione mi asciuga tutto e mi toglie tutti quei brufoletti sotto pelle fastidiosi non ho mai trovato un prodotto altrettanto performante che possa sostituirlo quindi lui quando finisce lo ricompro ed infatti l'ho già ricomprato non l'avrei mai detto ma forse ho trovato un sostituto per il mio adorato ever calm redness relief serum di ren che era il mio siero lenitivo preferito era il mio siero lenitivo preferito da giorno perché io applicandolo vedevo effettivamente i miei rossori diminuire ha un potere un pochino vasocostrittore c'è un fungo all'interno che va ad aiutare da questo punto di vista ed è un siero che per me fa la differenza però è anche un siero molto costoso e faceva la differenza perché aveva proprio un effetto calmante immediato sui miei rossori ma non è che fosse particolarmente idratante particolarmente rimpolpante era sottile delicato dava quel boost di idratazione e mi aiutava a diminuire i rossori di modo che anche il makeup al di sopra si applicava con più facilità e continuo ad utilizzarlo l'ho riacquistato ma ho trovato un siero che mi piace altrettanto e costa meno e quindi non so se terminato quello che ho aperto lo riacquisterei e non mi dispiace perché ogni volta l'ottavo per trovare degli sconti qui e là perché questo siero costa 45 euro quando lo si trova scontato ma prezzo pieno a volte lo si trova anche a 60 che è davvero davvero troppo qual è questo siero è di avino è il Clalm Plus Restore Triple Oat Serum ne mette ancora una gocciolina qui ma non vi preoccupate adesso andrò a prelevarla con le mie spatoline in silicone che sto adorando ultimamente e lo terminerò fino all'ultima goccia c'è probabilmente un'applicazione no spoiler lui ha una mini recensione dedicata che arriverà nel mio calendario dell'avvento ve ne parlerò lì nei dettagli ma è diventato il mio nuovo siero calmante e lenitivo preferito quindi se volete vederlo in azione vi aspetto nelle mie mini recensioni passiamo adesso a un siero generico questo è un siero idratante all'acido ialuronico di l'ho acquistato al volo in farmacia quest'estate in Puglia perché sentivo la mia pelle davvero prosciugata e disseccata super low cost avere una mini size me l'ho pagato penso 3 euro ha fatto il suo lavoro non è wow non è così ricco così complesso anche nell'inci per giustificare un riacquisto ha fatto quello che doveva fare in quella settimana in cui mi serviva un boost di idratazione e non avevo un altro prodotto a disposizione io amo l'acido ialuronico ma di solito lo preferisco in formule più complesse dove c'è acido ialuronico e anche qualcos'altro quindi per questo non lo riacquisterei ma in emergenza come vi dicevo ha fatto il suo lavoro contornocchi il primo è di Floslac Pharma sono dei contorni occhi che si trovano su notino lid and under eye gel quindi un gel freschissimo che si può applicare anche sulla palpebra lid che io utilizzavo come maschera contornocchi rinfrescante è un gel leggermente idratante freschissimo io lo tenevo in frigo l'applicavo in un bello strato sul contornocchi e poi uno dei miei patch in silicone riutilizzabili da questo punto di vista ve lo straconsiglierei perché costa tipo 3 euro quindi se volete fare i vostri patch contornocchi da soli a casa assolutamente consigliato se volete utilizzarlo come unico contornocchi idratante rimpolpante non lo è a sufficienza quindi lo consiglierei solo con quella funzione Belif della linea di Belif l'unico prodotto che mi è sempre piaciuto è proprio il contornocchi che ha comunque quella profumazione un pochino pungente di questa linea ma è un ottimo contornocchi l'ho sfruttato con piacere non lo riacquisterei onestamente proprio perché cerco una formula che sia perfetta in tutto e per tutto mi è piaciuto invece moltissimo il contornocchi di Youth to the People Dream Eye Cream Goji Stem Cell Ceramide Ialuronic Acid Vitamin C quindi bacche di Goji ceramidi acido ialuronico e vitamina C lui mi piace perché aveva una texture corposa ma in gel cioè un gel spesso di facile assorbimento si assorbiva bene idratando con un leggero effetto rimpolpante l'avevo trovato bello scontato costa troppo io vorrei trovare un valido contornocchi che non costi 100 milioni di euro e lui cercherei di non riacquistarlo per questo però lo trovo un valido contornocchi quindi se siete disposti a spendere io mi sento di consigliarvelo in realtà vi ho parlato delle creme ma adesso parliamo dei sieri primo finito L'Oreal Revitalift Filler Ialuronic Acid è il loro famosissimo siero contornocchi l'ho già ricomprato lo avete visto nel mio video All Black Friday applicatore controverso con queste palline rinfrescanti quindi vanno a decongestionare la zona quando applicate il siero contornocchi ve lo passate sugli occhi quindi leggermente chiaramente qualcosa trasferisce entra nel siero che dopo un po' che lo utilizzate non è più totalmente trasparente onestamente a me non dà fastidio perché lo uso solo su di me e non voglio perdere la componente piacevole di rinfrescarmi il contornocchi con queste palline decongestionanti ogni mattina questo è il mio contornocchi da giorno siero quindi che applico al di sotto di una crema e continuo ad utilizzarlo un altro siero che ho adorato e che vi ho già recensito in una mini recensione è il niacinamide in green tea ai serum quindi siero alla niacinamide al green tea di hondo torniamo ai prodotti coreani è un siero contornocchi bello ricco ma non pesante e che io adoravo applicare la sera adoravo perché io non l'ho riacquistato perché non ho trovato un'offerta vantaggiosa per me trovarlo a prezzo pieno a 40 45 euro 50 euro era un costo troppo alto però vi devo confessare che questo prodotto mi manca non sono riuscita a trovare un'offerta vantaggiosa con il black friday se avete qualche sito che voi sapete lo rivendo a un prezzo accessibile lo sto cercando spero con i saldi di riuscire a trovare un bello sconto e di riuscire ad accapparrarmelo intorno ai 26 28 euro non sono pochi ma sicuramente meno lo avevo acquistato a quel prezzo non mi sento di pagarlo 40 euro però devo ammettere che mi è mancato e sento l'esigenza quantomeno di sostituirlo o di riacquistarlo perché per me lui alla sera è ok ma non è tanto idratante quanto lo era quello di hondo ma è perfetto proprio per il giorno perché è più sottile crema idratante è il mio adorato dew point moisturizing j cream di versed ve ne ho già parlato è proprio il mio idratante per l'estate perché è sottile idratante contiene anche aloe quindi anche leggermente lenitivo è proprio questo gel che si assorbe subito lasciando la pelle idratante rimpolpata ma per nulla unta grassa ed è per questo che d'estate è una coccola applicarlo e si riesce ad applicarlo anche quando non si vorrebbe fare skin care perché è davvero un piacere l'ho fatto testare a mia zia che ha la pelle grassa e lo ama l'ho fatto testare a mio cognato che cercava una formula idratante ma impercettibile e lo ama anche lui è secondo me la crema idratante perfetta per le pelli grasse perfetta secondo me in un kit da makeup artist proprio per questa funzione io con la mia pelle mista la utilizzo in estate quando diventa freddo opto per delle texture un pochino più corpose adesso sto testando il moisturizer di Avino ma niente spoiler perché lo troverete recensito nelle mini recensioni del calendario detto questo terminiamo con un SPF che ho amato anche lui recensito nel famoso video SPF è il centella Yalusika Water Fit Sun Serum di Skin 1004 brand famoso per l'ampulla la centella questa era perché anche lei è stata tagliata e terminata fino all'ultima goccia la crema che ho utilizzato quest'estate voi sapete adoro quella di Jeju il Jeju Fresh Aloe vi ho fatto una testa così però avevo aperto lei in primavera e anche in estate si è comportata benissimo lei è una crema SPF che potrei utilizzare tutto l'anno perché è leggermente idratante ma senza essere unta sottile si assorbe subito non va a inficiare l'applicazione del makeup secondo me è un SPF davvero davvero ottimo e senza il quale credo di non poter stare non so se ho già acquistato un backup che ho nei miei cassetti o se lo riacquisterò perché davvero l'amo adesso sto utilizzando un altro SPF che adoro che è quello che utilizzo in inverno perché ha una componente leggermente più idratante senza essere unto anche di lui vi ho già parlato ma vado a prenderlo eccolo qui è quello di Iscentry lo Ialuronic Acid Watery Sun Gel l'ho quasi terminato ce n'è tanto così lui mi piace molto l'inverno quando arriverà la primavera credo tornerò a lui approvato e consigliato detto questo siamo arrivati all'ultima parte del mio video terminato e che riguarda come sempre le sheet masks la prima è per il contorno occhi e continuate a vederla nei miei video finiti è sempre di L'Oreal la Quilling Eye Serum Mask che contiene in quantità esorbitante loro dicono un'intera boccetta del siero del quale vi ho già parlato secondo me non è un'intera boccetta e spero non lo sia perché sarebbe uno spreco ma la mascherina all'interno è ben imbevuta e poi è proprio una maschera come una maschera da carnevale e quindi copre benissimo tutta la zona del contorno occhi quando voglio uno shot di idratazione mi piace molto utilizzarla mi prendo il mio tempo la lascio applicata per tanto tempo mentre magari i patch occhi sono più veloci da applicare li posso applicare anche mentre mi trucco per raccogliere il fallout o magari al volo mentre mi lavo i denti se voglio decongestionare questa invece è una maschera che richiede un pochino più di tempo ma dà sicuramente dei risultati che valgono la pena sheet mask tante maschere che amo sulle quali non voglio dilungarmi la mia preferita è la goodbye redness centella sica mask pack di benton è la mia maschera preferita per i rossori quando sento la mia pelle disidratata e vedo i miei rossori peggiorare e sappiate che d'inverno mi succede spessissimo torno a casa con le guance caldissime nonostante il resto del viso sia congelato e che pulsano quasi e arrossate e queste maschere mi aiutano proprio in questo periodo dell'anno mi è piaciuta molto anche questa al otturnia cordata è tutta scritta in coreano di un brand che si chiama all natural credo me l'avessero omaggiata forse con un ordine su stilvana mi piacciono sempre le maschere di skin 79 questa è la seoul girl beauty secret mask wrinkle care quindi quella nutriente per le rughe queste maschere hanno sempre un pack bellissimo sono buone ma non le migliori maschere coreane che io abbia mai testato ne ho un sacco da parte nel mio cassetto di maschere da finire dovrei fare un project pen maschere si mi sento in colpa quando le uso si mi sento in colpa quando non le uso si devo imparare a gestirle perché poi dopo magari me ne rimane solo una e non voglio finirle rimanere senza ma se ne ho di altre migliori non serve insomma fatemi sapere se anche voi vivete tutti questi grammi legati al vostro accumulo di sheet mask e terminiamo con una bocciata ero curiosissima di testare questa maschera in edizione limitata seppora per il natale nourishing and soothing quindi nutriente che in inverno ci può stare e lenitiva che è assolutamente quello che mi serve ma soprattutto with hot cocoa fragrance quindi al profumo di cacao caldo io ho immaginato una cioccolata calda curiosissima l'ho acquistata per me e per mia sorella per godercele in una serata si sta l'abbiamo applicata guardandoci insieme un film e sono rimasta super delusa non profuma per nulla di cioccolata forse un po' di burro di cacao ma poco ma soprattutto profuma di dash non il detersivo il dash non so come si pronuncia avete mai fatto i lavoretti da piccoli all'asilo con quella pasta modellante bianca che poi si poteva cuocere vi metto un'immagine qui ha proprio quel profumo lì sono ritornata a piccola scuola quando facevo i lavoretti per me assolutamente bocciata e non è una profumazione rilassante non è nemmeno spiacevole ma il profumo è davvero quello mi ha ricordato proprio la pasta modellante dash no io di hot cocoa non ci sento nulla e per me è stata una grandissima delusione e questo era l'ultimo prodotto di questo lunghissimo video terminato con una nota dolente ma spero anche simpatica in realtà mi ha fatto tornare un po' alla mia infanzia ed ecco qui tutto il mio bidone pieno di prodotti che adesso andrò a differenziare mi raccomando fatelo perché è importantissimo ma visto che sto terminando altri prodotti finalmente avrò un po' di spazio dove metterli perché quel bidone stava davvero collassando mi raccomando come sempre se il video vi è piaciuto se vi ha fatto compagnia non dimenticatevi un mi piace l'iscrizione al canale ma soprattutto non dimenticatevi la prossima puntata tutta dedicata ai finiti make up io vi mando come sempre un gigante grossissimo bacio e vi ricordo che se vi va io vi aspetto sempre qui cesanna ciao ciao no dimenticatevi Sì